Questa sera martedì 21 luglio 2015 su canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island il docu reality di Maria De Filippi condotto anche in questa seconda edizione da Filippo Bisciglia Tanti gli argomenti in primo piano su tutti il confronto tra Alessandra ed Emanuele scopriamo allora insieme le anticipazioni Questa sera scopriremo come hanno trascorso il weekend da sogno le coppie insieme ai single prescelti Alessandra dopo gli ultimi comportamenti assunti da Emanuele con la single Fabiola ha deciso di non partire Isabella sempre più in crisi a causa dell'arrivazione del suo fidanzato Mauro con la single Marta ha scelto ugualmente di partire ma da sola Nel corso della quinta puntata di Temptation Island in onda questa sera si rinnoverà l'appuntamento con il Falò che si preannuncia particolarmente incandescente per due coppie ancora in gala quella formata da Isabella e Mauro e quella composta da Alessandra ed Emanuele per entrambi potrebbe essere arrivato il momento di lasciare per sempre il reality di Maria De Filippi lo sarà certamente per Alessandra ed Emanuele che usciranno da soli da Temptation Island stessa sorte dovrebbe attendere Mauro ed Isabella anche per loro il reality condotto da Filippo Bisciglia si è rivelato fatale Nel corso della puntata di questa sera assisteremo anche al diabolico scherzo di Claudia a Dario la ragazza ha messo in scena un finto corteggiamento da parte di uno dei tentatori col preciso obiettivo di far ingelosire il suo fidanzato c'è curiosità anche di scoprire l'evoluzione del rapporto tra Amedeo e la single Chiara Alessia continua ad assistere piuttosto sconcertata all'atteggiamento del suo fidanzato